Ciao, sono Alessandro Stagni di Northern Light Composite. NL Comp è una startup innovativa che grazie al progetto EcoRacer 30 One Design è tra le 6 realtà vincitrici della Call for Innovation, lo sport nella blue economy di Genova Blue District, comune di Genova, di Ocean Race con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. EcoRacer 30 One Design è la prima barca riciclabile prodotta in serie. È una barca a vela di 9 metri costruita con materiali compositi innovativi che permettono un fine vita sostenibile. In particolare abbiamo utilizzato una matrice termoplastica accoppiata con fibre di lino e fibre di carbonio vergini e riciclate. EcoRacer 30 verrà varata all'Innovation Village presso l'Ocean Life Park in occasione dell'evento di Ocean Race Genova, The Grand Finale e sarà a disposizione del pubblico per delle uscite in mare. Inoltre, durante tutta la durata dell'evento organizzeremo dei laboratori per far conoscere i nostri prodotti sostenibili e innovativi. Tutte le attività saranno gratuite, pertanto vi aspettiamo presso l'Innovation Village dal 24 giugno al 2 luglio.